Io sono Mona Lisa, del Giocondo, fiore di grazia, fior di leggiadria. Ho cominciato a viaggiare per il mondo che non c'era né l'aereo, né il treno, né la ferrovia. Al massimo a bicicletta, poi c'ho anche un computer e mi hanno regalato un mouse tutto particolare. Una storia che ai secoli risale così come risale il mio sorriso, che molti chiamar vollero immortale. Ed è così che si sorride in paradiso. Sorrido sì, ma dopo tanti guai ho una natura triste, triste assai.